Nome? Marta. Maria. Città? Betania. Betania. Fratelli o sorelle? Lazzaro e Maria. Lazzaro e Marta. Il tuo lavoro? Donna al servizio del maestro. Beh, allora io ascolto la parola del maestro. Il nome del tuo migliore amico? Elia. Gesù. Cosa ti piace di lui? Beh, sto bene con lui, mi fa divertire. Mi parla dell'amore, quello vero. Lo ascolto perché so che conduce la mia vita. Caratteristiche di tua sorella? È una fanullona, però sa ascoltare molto bene. Marta, è mia sorella, è sempre attenta a tutto ma è molto molto disponibile. Lascia un messaggio a tua sorella. Cara Maria, ascolta un po' di meno ma lavora un po' di più. Cara Marta, fermati a riflettere un pochino di più su quello che vivi.